Ennesimo rinvio a causa dell'assenza del perito per il processo riguardante Roberto Di Santo, il bombarolo di 58 anni di Roccamontepiano in provincia di Chieti, arrestato a gennaio 2013 a Rosciano in provincia di Pescara dopo 10 giorni di latitanza con l'accusa di vari atti incendiari a Pescara e a Chieti. Nella prossima udienza fissata per il 19 maggio si dovrà discutere dei risultati della perizia disposta dal Tribunale collegiale di Pescara per accertare la capacità di intendere e volere di Di Santo al momento dei fatti che gli vengono contestati. Intanto lo stesso Di Santo ha cambiato nuovamente legale, ora a difenderlo è l'avvocato Argentieri. Il difensore che mi ha preceduto, l'avvocato di Lorito, ha fatto un gran bel lavoro, è una persona tra l'altro molto precisa, coscienzosa, molto puntuale nelle sue rappresentazioni professionali e nelle difese. Il problema è che il Di Santo ritiene di non essere stato difeso adeguatamente sotto il profilo delle istanze che lui ha rivolto. Il processo fonda su questi reati che lui ha commesso con esplosivo e con questi incendi. Lui ritiene di aver fatto queste cose perché voleva richiamare l'attenzione del Tribunale, l'attenzione della giustizia per delle doglianze che lui aveva. Sono nove anni che lui ritiene di essere perseguitati. Sarà interessante capire cosa emergerà dalla perizia psichiatrica con la quale la difesa potrebbe anche chiedere misure alternative alla detenzione. Allora, se dovesse essere ritenuto anche pericoloso socialmente non si può evitare di restare ancora in carcere. Non ci sta una soluzione alternativa se non quella della carcerazione, dato il reato che è stato imputato e ha scritto al signor Di Santo. Se invece si va a scemare questa responsabilità, quindi si va a ritenere che possa essere una priorità psichiaria contenuta all'interno di un protocollo farmacologico o di un protocollo di cure psichiatriche in un ambiente assistito, può anche essere trovata un'alternativa in un ambiente idoneo per poterlo curare.